Buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Stasera ci occuperemo di sanità, di salute, parleremo in modo particolare di vaccini, un po' perché il periodo è quello dell'influenza e quindi naturalmente sulla nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale, un po' però anche per quanto riguarda la meningite, un po' sul sistema sanitario nazionale cercheremo di capire quanto anche la propaganda antivaccini che effettivamente si sviluppa soprattutto sui social network abbia attecchito e che danni rischi di provocare. Ne parleremo con Mauro Ucci che è medico di famiglia e anche presidente della FIMG Toscana. Buonasera. Buonasera. Senta, la prima domanda è proprio quella a cui mi riferivo in fondo alla presentazione, ovvero la campagna antivaccine. È un po' una sorta di sentimento che si sta sviluppando nel nostro paese, che si muove spesso sui social network, su internet, molta disinformazione su questo. Si può chiarire il campo una volta per tutti? I vaccini, per come li conosciamo, soprattutto quelli nei più piccoli, rischiano di provocare dei danni, danno problemi? Diciamo che l'unica cosa certa è che non vaccinandosi si è esposti a un grosso rischio. Questo è l'unica cosa certa. Per quanto riguarda la polemica sui vaccini, la più grossa che c'è stata è quella che i vaccini potevano provocare l'autismo. Questo è stato smentito a tutti i livelli, il medio è stato radiato, perché è un collega inglese, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definitivamente asserito che non esiste nessun rapporto fra vaccinazione e autismo. Questa è la cosa più importante. Senta, ma perché allora, secondo lei, come dire, nel nostro mente è così facile che certe credenze possono attecchire in questo modo qui? Cosa è cambiato rispetto a qualche anno fa? Diciamo che l'avvento del social network ha amplificato una certa possibilità di poter immettere in rete, o immettere, o parlare, o discutere una serie di notizie che non hanno fondamento. Questo è sempre successo, cioè le voci ci sono sempre state. Voci di piazza, insomma. Voci di piazza, ci sono discorsi di bar, sensazione. Io non mi vaccino perché io tanto le malattie non le prendo. Perché l'amico del fratello... Queste sono cose che individualmente poi, se trovano risonanza, che trovano una certa presa sulla popolazione, possono creare questi guai. I guai che sono dei guai che non sono individuali, perché il problema di non vaccinarsi non prova solo un danno alla persona che non si vaccina. Per cui a un certo punto uno dice, sai, purtroppo va incontro a meningite, va incontro alla morte, però è un fatto individuale. Come uno che non si mette la cintura in macchia. Perfetto, anche se poi il problema è ancora più grave, perché la non vaccinazione, avere una meningite da morbillo, rimanere invalido per tutta la vita, è un problema per chi ha questo problema, un problema per la famiglia e poi diventa un problema per la collettività. Ovviamente, per la spesa sanitaria e tutto quanto. Ma per l'individuo, ora la spesa è una cosa secondaria, parliamo dell'individuo, la persona, la persona che rimane invalida per aver preso una malattia, tanto l'esempio più clamoroso, e l'ha detto, ebbe per io, la scrimitrice italiana, Paralimpia, che ha detto, se mi fossi vaccinata, non avrei avuto questa malattia. E sono fortunata a essere viva. Quindi mi pare che lei abbia anche fatto un grosso spot a favore di questa... Lei diceva che non è un problema individuale, ma è anche un problema della collettività. E questo è qualcosa che si verifica, come dire, anche in quella soglia, che viene spesso citata, il 95% della popolazione vaccinata. E' un po' considerata la soglia limite, cioè se si scende sotto quel 95% di popolazione vaccinata, si rischia di ripresentarsi di epidemie, di malattie che si pensava scomparsi. Si pensava scomparsi, non solo. Il problema si è posto in Toscana, dove una bambina immunodepressa, quindi con facilità a prendere malattie, hanno dovuto cambiare di scuola, perché nella classe in cui era c'era un'alta percentuale di bambini non vaccinati. Quindi esponevano questa bambina a prendere le malattie e per le sarebbero state letali. Una bambina che non poteva vaccinarsi perché? Che non poteva vaccinarsi per una questione di una malattia cosa. Quindi questo è l'esempio più lampante, insomma, che hanno dovuto cambiare di sezione. Ora alcune regioni stanno correndo a ripari e mettono la vaccinazione obbligatoria. L'Emilia Romagna ha già fatto una legge per la vaccinazione obbligatoria. La Toscana sta per emetterla in questi giorni. Poi in Lazio, ho visto venuto fuori. La Lombardia ha detto no, non vaccinerà. Però contemporaneamente ha detto ai bambini lombardi di non venire in Toscana perché è pericoloso, perché per le malattie. Siamo arrivati a un punto, mi pare, paradossale. Senta, eppure anche in Emilia Romagna ci sono state un po' di reticenze, no? Questo chiaramente più dal punto di vista politico, probabilmente anche per logiche, insomma, di partito, di appartenenza politica, così. Però, insomma, il Movimento 5 Stelle ha votato contrariamente alla legge appunto della regione Emilia Romagna sulla vaccinazione obbligatoria. Ma anche diverse persone hanno preso posizione contraria a questa cosa perché viene visto un po' come un attacco alla libertà. Noi non mettiamo il dubbio, cioè c'è una libertà individuale che è giusta e sacrosanta, ma qui sta parlando di presidi di igiene pubblica, quindi si mette a repentaglio la vita degli altri. Quindi a questo punto non è più giusto. Poi ognuno individualmente, se fosse su un'isola deserta, può decidere di fare quello vuole. Ma se vive in una comunità è un suo dovere proteggersi e proteggere gli altri. In Italia recentemente, ma anche in Spagna, ci sono stati, sono ripresentati dei casi di difterite, insomma, era tanto tempo che non si vedevano. È anche questo causa del calo dei vaccini? È chiaro. È chiaro perché il problema della copertura vaccinale, quando una malattia non viene più fatta, una vaccinazione di massa, si può riapparire. C'è una malattia che è scomparsa, tra parentesi, e nessuno poi sa esattamente dove vanno a finire le malattie scomparse. È il vaiolo. Infatti non viene più vaccinato nessuno per il vaiolo. Però noi abbiamo il virus del vaiolo. Lo teniamo conservato. In caso di una ripresentarsi della malattia c'è il vaccino. Quindi questo qui. C'è solo il vaiolo che è una malattia che è stata detta debellata. Le altre, insomma, potrebbero ripresentarsi anche con dei rischi del genere. Senta, la domanda è questa. Dal nostro punto di vista, la Toscana, tra poco entreremo a parlare anche della meningite, che è un caso in modo particolare, insomma, locale, anche se non riguarda solo la Toscana, ma in modo particolare riguarda la Toscana. Volevo chiederle però, da questo punto di vista, anche proprio sulla percentuale di vaccinazioni, per quanto riguarda i bambini più piccoli, a che livello siamo, più o meno, sul panorama italiano? Ma diciamo che per i bambini piccoli, sulla meningite c'è un grosso lavoro fatto dai pediatri di famiglia e una buona parte dei bambini sono stati vaccinati. Direi questo qui. Noi abbiamo un sistema pediatrico d'eccellenza, che quindi molti bambini sono stati vaccinati. Senta, ma esistono dei medici invece che sostanzialmente sostengono che, insomma, i vaccini possono effettivamente dare dei problemi, complicazioni o che non è così importante vaccinarsi? Cioè esiste qualche obiettore di docenza? Diciamo che in un ambito di libertà di espressione si può fare, però quando uno svolge una funzione di igiene pubblica non può in nessuna maniera rifiutarsi o dare delle notizie false. Questo qui è un obbligo e quindi nessuno può anche affermare che i vaccini fanno male. Può dire che i vaccini hanno degli effetti allaterali, ma questo, qualsiasi cosa, ha un effetto allaterale. La vaccinazione può dare degli episodi di intolleranza locale o anche alcuni, in alcuni casi, limitati e anche più gravi. Che però fatto il numero delle vaccinazioni con gli eventi eventualmente alversi non sono minimali. E quindi, insomma, in qualche modo che rischiano l'utilità del vaccino. Senta, una domanda, perché altra questione, questo riguarda invece tutti i vaccini, è quella della cosiddetta lobby farmaceutica. È sempre un po' questo mostro sacro che viene paventato, no? Che esista questa lobby che spinge le persone o spinge le istituzioni, la politica in qualche modo, a obbligare le persone a vaccinarsi. Allora, la lobby farmaceutica sicuramente c'è un potere di aziende che hanno un grosso giro d'affari. Però non dimentichiamoci una cosa, che nel 1900 si moriva a 50 anni e ora si muore a 85-90. Quindi la lobby farmaceutica ha prodotto dei farmaci che hanno permesso un raddoppio quasi della vita media nell'arco di 100 anni. Non era mai avvenuto. Sicuramente sono aziende di tipo economico e quindi loro tendono al profitto. Ma sta all'ente regolatore, e uno ha l'AIFA per esempio in Italia, l'EMA, in Europa, di poter ricalcolare la giusta compenso per il prezzo del farmaco. Consideriamo una cosa, nel prezzo del farmaco, il prezzo industriale del farmaco, più quanto dovuto per la ricerca. Perché è facile, molti dicono sì, io vado a comprare il farmaco, il generico, che costa tanto per dire, la cura per l'epatite C in India costa 900 euro. Attualmente in Italia, in Toscana, va a 30 mila euro. Quindi è una sproporzione macroscopica per cui uno diceva che sicuramente dovremmo ricontrattare con la ditta che lo ha fatto il prezzo. Però sicuramente se non avesse fatto la ricerca non ci sarebbe il farmaco. Quindi demonizzare è giusto, cercare di ridurre. Però c'è una parte che va in ricerca che altrimenti non verrebbe fare. Le aziende che fanno i generici, salvo alcune, non fanno ricerca. Fanno solamente produzione e vendita. E c'è una bella differenza. Certo, in un periodo di crisi, a un cittadino è difficile dirgli comprare quello che costa di più, visto i banking. Sì, però diciamo che la Toscana sta facendo, è stata capofila, cercando di passarla al più numero, più vasto possibile. E attualmente cercherà di ampliare questo range per cui sarà data la vaccinazione per l'epatite C, che ha un alto numero di guarigioni. Quindi funziona, diciamo così. Funziona. Senta, parliamo della meningite. È allarme di nuovo in Toscana, ciclicamente, verrebbe da dire, perché ogni volta si ripresenta un caso o due, riscatta l'allarme, tornano a vaccinarsi le persone. Da parte della politica, l'assessore Saccardi, spesso rinnova l'invito a vaccinarsi, visto che le vaccinazioni sono state estese anche nella fascia di età, gratuitamente. Però resta un focolaio in Toscana che è evidentemente difficile da debellare. Le cause e come si può fare in qualche modo? Le cause sono i bambini con C. Perché abbia preso la Valle dell'Arno, si sia affezionato alla Valle dell'Arno, è un po' difficile capirlo. Insomma, ancora non è che sia ben chiaro le dinamiche per cui... L'esempio è stato il bambino che ha preso la meningite ed era stato vaccinato, però è guarito rapidamente. Quindi la dimostrazione che la vaccinazione funziona l'abbiamo avuta anche indirettamente da quel caso del bambino che ha avuto ora la meningite, però essendo stato vaccinato... Stavo vaccinato nel 2009 se non sbaglio, quindi 6-7 anni fa. Quindi ci sta che il tasso anticorpale fosse diminuito, però la memoria della difesa c'era ancora. E infatti da lì è stata proposta l'idea di fare un richiamo del vaccino ogni 5 anni invece ogni 10. Sì, di fatti siamo d'accordo, cioè in questo senso che noi abbiamo, questa è tutta una materia in divenire e quindi sicuramente le esperienze servono per migliorare il livello di copertura vaccinale. Senta, la cosa bizzarra forse è che quando si parla di meningite, almeno nel passato, era qualcosa che colpiva soprattutto le fasce più giovani dell'età delle persone. Anche perché forse nel metro di trasmissione si parla sempre spesso delle discoteche, i bar, insomma nei locali frequentati dove c'era tanta gente, poi è logico che da una certa età in meno, insomma il discoteche ci si va meno, forse anche per quello, insomma le possibilità di contatto erano meno. Adesso ultimamente, insomma, gli ultimi casi di fatto colpiscono anche persone, 50, 60 anni, è cambiata un po' anche la malattia? Non è cambiata la morbilità, sicuramente i posti affollati, siccome ora si va più in autos di prima, ci sta benissimo che si sia sviluppato anche per quello, ma non c'è nessuna dimostrazione. Quindi i mezzi di trasporto, sì, rimangono diciamo, i veicoli rimangono. Quello normale. Senta, il periodo della vaccinazione in qualche modo, si entra nel periodo invernale così, vogliamo dire di ricordare su questo anche, che importanza c'è, quali sono le fasce della popolazione che devono stare più attenti in questo periodo, il vaccino anti-influenzale funzionerà, perché poi anche queste sono sempre le questioni che vengono fuori, insomma, in questo periodo. Allora, partiamo da un principio, l'influenza che viene considerata una malattia a esido benigno, di fatti molti dicono, fa dai 7 ai 10 mila morti l'anno, va bene? Quindi detto questo, in una popolazione a rischio più debole è anziana, quindi questo è un buon modo per convincere le persone a vaccinarsi. Eh certo. Quindi noi parliamo di una malattia che fa un alto numero di morti, per effetto diretto e indiretto. C'è una regione toscana... Oltre alla meningite, insomma. Oltre alla meningite, in cui i morti fortunatamente sono molto meno, anche se la percentuale di mortalità è abbastanza elevata. Una delle vaccinazioni a consigliare, oltre a quella influenzale, per le persone oltre 65 anni, è la vaccinazione antropolmonite, che viene offerta dalla regione toscana a tutti i cittadini oltre 65 anni e quella dura una volta sola. Ora c'è un vaccino che si fa una volta sola nella vita e quindi viene offerta anche quella. E quella è molto importante, perché non si muore per l'influenza, ma per le complicazioni broncopolmonari. Quindi la vaccinazione per la polmonite è consigliata e consigliabile anche insieme alla vaccinazione. Si possono fare insieme nello stesso momento? Si possono fare insieme. O si fanno insieme oppure si vuole una distanza di 30 giorni. Capito? Quindi quello poi il medico lo sa. Quindi il momento è questo. Senta, la domanda che volevo farle è anche sulla nostra regione. Poi dopo magari torneremo a parlare della questione dei vaccini. C'è ancora tanto da dire, però volevo capire un po' la nostra... Perché spesso parliamo della sanità toscana, poi dopo nella seconda parte entriremo anche a parlare della struttura, le tre asle, eccetera. Però la sanità toscana viene spesso raccontata come una delle sanità migliori d'Italia, ma insomma uno standard anche a livello europeo piuttosto alto. È effettivamente così? Allora, è un po' domandare all'oste se viene buono, ma insomma... Comunque, avendo una piccola esperienza anche di altri servizi sanitari regionali, ci sono altri servizi che funzionano bene, l'Emilia Romagna. La stessa Lombardia ha un ottimo servizio sanitario, il Veneto ha un ottimo servizio sanitario regionale, non è che sono... non è una questione politica, è una questione di organizzazione. Noi in Toscana abbiamo un ottimo servizio sanitario regionale. È migliorabile sicuramente, non è che sia la perfezione, quella è difficile raggiungere, però comunque abbiamo un buon livello standard, meglio, di assistenza. Sicuramente ci sono molte... qualche cosa da correggere per quanto riguardo l'accesso alle prestazioni. Ancora noi abbiamo una difficoltà, le liste attese, queste effettivamente sono criticità che l'assessore sta cercando di risolvere e sicuramente quella è l'unica criticità che noi troviamo nel servizio. C'è anche una colpa un po' anche degli utenti, i quali sicuramente non pretendono, perché è giusto che poi si facciano, ma succede nella pratica che ai pazienti si consiglia di fare un certo iter diagnostico. E questo sì, lo faccio dopo, lo faccio dopo. Dopo sei mesi che uno gli consiglia un iter e gli dice bene, ora mi sono deciso lo fa, e mi hanno dato l'appuntamento a venti giorni. Attenzione, ma sei stato sei mesi a pensarci, quindi voglio dire a volte... A volte è più una percezione di cosa, sicuramente però quello è un punto di... Tra l'altro perché in questo senso la sanità pubblica deve affidarsi anche ai privati, in qualche modo per smaltire le liste attese. Sì, le privati... Quello è un punto, è un ticket occulto che il cittadino paga. Allora, il privato svolge un servizio importantissimo di supporto al Servizio Sanitario Nazionale. Il problema è quello di riuscire a regolamentare i rapporti fra queste due istituzioni. Pubblico e privato. Pubblico e privato. Il problema è che si deve trovare un punto di raccordo fra queste due. Non posso ragionare in una maniera... Qualcosa di sistemi, diciamo che sia sempre... Il Lombardia è stato assolto in una certa maniera, in Toscana è fatto in maniera esattamente al contrario. Però comunque il problema sussiste e questo va fatto. Anche ci sono degli ottimi laboratori privati, le pubbliche assistenze. Non abbiamo... Il sistema PAS hanno un'ottima rete sul territorio, però abbiamo anche un'ottima rete pubblica che va sfruttata meglio. Insomma, vanno messi in sinergia. Vanno messi in sinergia. Vanno messi in sinergia. Allora, siamo quasi per arrivare alla fine della prima parte. Volevo domandarle sempre una cosa riguardo a questo, anche se poi dopo ci entreremo più nello specifico, perché parlando della buona sanità, un caso, voglio chiederle in particolare, gli eventi che succedono come quello del successo a Piombino. Naturalmente lì c'è un'inchiesta in corso, quindi è tutto in divenire. No, però l'infermiera che avrebbe, secondo l'accusa, portato alla morte somministrando delle dosi di eparina, se non sbaglio, a diversi pazienti nel corso della sua attività come infermiera, lì anche il sistema sanitario è stato messo sotto esame. In qualche modo l'assessore Saccardi ha dovuto fare una commissione speciale di controllo. Sono casi che succedono, ovviamente c'è un'inchiesta in corso, quindi le responsabilità verranno poi accertate, ma sono, come dire, si possono ricondurre anche queste a falle nel sistema di controllo, almeno? Ma questo qui è un problema grosso, è un problema che riguarda i fattori di rischio, è un fatto molto strano. Ho lavorato in ospedale e ho adoperato le parina tanto. Mi pare strano come è stata messa la cosa, però io sono su quello che ho letto, quindi non posso dare un giudizio. Ovviamente. Non posso dare un giudizio, però sono fatti individuali, non è un fatto di un sistema, non è che il sistema fosse... Il sistema di controllo fu negli ospedali toscani? Il sistema di controllo, controllo. Funziona? Sì, sicuramente. Sicuramente. Anche perché è successo a Piombino, si dice è successo a Piombino. Certo, bisognerà vedere. Per ora bisogna poi dimostrare che poi ci fosse stata quella serie di eventi delittuosi. Certo, perché sono stati volontari delittuosi, appunto. Questo sarà la magistratura a chiarirlo. Allora, ci fermiamo... Dobbiamo considerare noi il piccolo, grande per chi l'ha avuto, ma di fronte ai milioni di interventi che vengono fatti ogni anno. Certo, è logico. Sulla statistica, no? Quindi cambia notrivolmente poi la percezione, perché se ho fatto due milioni di interventi su cittadini e ho tre casi disgraziati, non ci devono essere, ma sono tre casi giazzati contro due milioni. E logico, in queste questioni vale la legge in qualche modo dei grandi numeri, perché è normale, il rischio zero non esiste. Non esiste, questa è una delle cose da dire. Non esiste nessuna manovra medica esente da rischio. Perfetto. Allora ci fermiamo per questa prima parte. Torneremo, parleremo di come si sta strutturando anche la sanità in Toscana, perché sta cambiando in modo piuttosto radicale. Parleremo anche della figura del medico, come è cambiata, come si è evoluta anche questa nella storia, perché qualcosa effettivamente è successo. Naturalmente tutto con uno sguardo alla Toscana. Cinque minuti di informazione e poi torniamo in studio. Ben tornati in studio, siamo con il dottor Mauro Ucci, parliamo di vaccinazione, ma parliamo di sanità più in generale. La Toscana, parlavamo del nostro sistema sanitario regionale, insomma ha dato via una riforma piuttosto importante, un accorpamento decisivo in qualche modo, sulle tre ASL, più che rimangono quelle universitarie, ma l'accorpamento sarà piuttosto forte, rispetto a un panorama che era più frammentato in qualche modo. Che cosa cambierà? A parte il fatto di un taglio di poltrone evidenti, uso il palo di poltrone perché piace molto, però un taglio evidente, una ristrutturazione evidente, anche sul numero dei posti, ma poi nella pratica la paura del cittadino è quella che i servizi si allontanino in qualche modo. Diciamo una cosa, che forse il taglio di poltrone non avverrà in realtà, perché praticamente erano le figure di direttore generale, ma ci saranno delle figure intermedie tra il direttore generale e le varie ex ASL. Quello che cambierà sarà il rapporto cittadino, c'è una migliore fruizione, una non duplicazione dei servizi, perché i problemi dovranno essere nelle tre ASL, da 22 erano, diventeranno tre, ci sarà una centralizzazione dei servizi, una razionalizzazione dei servizi, quindi questo qui dovrà portare a dei risparmi un migliore accesso alle prestazioni. Ma vuol dire anche un'uniformità regionale nei servizi? Sono tre aziende, quindi queste qui rimangono tre aziende che hanno delle caratteristiche differenti l'una dall'altra. Le tre aziende sono quelle che fanno capo alle tre università, Firenze, Siena e Pisa. E Pisa. Senta, ma perché la famosa siringa che costa in Toscana una cifra e che in Sicilia costa un'altra cifra, è un po' un tema che si può riportare anche a livello originale? No, questo è già fatto. L'Italia e la Toscana ha un centro unico di acquisti che fa gli acquisti per tutta la regione. Il problema è quello della varietà dell'acquisto della siringa, è un problema un pochettino annoso, viene sempre detto che costa una cifra. Però il problema su presidi medici, a volte il prezzo minore non vuol dire la stessa qualità, quindi a volte bisogna stare attenti, in ospedale a volte succede che hanno comprato le siringhe a minore prezzo, però per fare la stessa cosa bisogna valutarne a quattro, quindi logicamente bisogna guardare al prezzo ma anche alla valuta del manufatto. Ma sarebbe possibile immaginare una unica fonte, appunto come la Toscana all'estero, un ester nazionale? Praticamente forse c'è, perché il Covid è quello che sovrintende gli acquisti della pubblica amministrazione, però c'è una parte di filosofia che dice se si fa una centrale unica di acquisti, si taglia la testa a tutti, poi diventa un solo fornitore e quindi apparentemente si riesce a avere il miglior prezzo e poi si asca nelle mani sue sempre. Quindi il discorso di non uccidere completamente la concorrenza era uno degli scopi per cui ne erano state fatte più gare. Più stazioni, ok, anche di fornimento. Qualcosa cambierà secondo lei, anche stando al testo della riforma, della riforma costituzionale che stiamo parlando, con il ritorno in capo allo Stato di alcune competenze regionali, tra cui anche parte della sanità, no? Sì, in parte rimangono di competenza regionale e questo è giusto perché ogni territorio ha le sue caratteristiche. Però, diciamo, per esempio, le vaccinazioni, noi abbiamo fatto le vaccinazioni, verrà rifatta una legge nazionale che pubblicherà le vaccinazioni. A questo punto, attualmente il Ministero della Sanità non ha nessun potere. Ha solo un potere così, di indirizzo. Di coordinamento. Il Ministro della Sanità non ha nessun potere rispetto alle regioni. quindi, quello che qualche competenza di sanità pubblica torni finalmente allo Stato centrale, che poi era quello che c'era nella Costituzione, tanto a masa, prima della riforma Bersani. Prima della riforma del titolo quinto famoso. Quindi lei è d'accordo comunque con questo? Sì, indubbiamente. Senza dubbio, perché una certa uniformità di comportamenti nelle varie regioni è a favore dei cittadini, perché migliora anche quello che è il passaggio da una regione all'altra per curarsi. Quindi anche lo standard in qualche modo viene ricalibrato, perché oggi nascere in Sicilia, in Calabria, è diverso da nascere in Veneto, in Toscana. Sì, diciamo purtroppo sì. Purtroppo non solo nascere, ma anche il far separare e curare. Esclusi punte d'eccellenza ci sono tutte le regioni, questo sicuramente, però ci sono regioni leggermente più svantaggiate dal punto di vista sanitario come media. Perché noi abbiamo in Toscana delle eccellenze, ma abbiamo un'ottima media, cioè in tutti i posti abbiamo un'assistenza di ottimo livello. Senta, questo in modo particolare viene, torna alla ribalta della cronaca, spesso quando si tratta di maternità, di fare figli. Anche lì c'è stato qualche caso di mortalità natale, insomma, nel momento della nascita. nei nostri ospedali, non in Toscana, però ci sono state. Sì, ci sono state. Ora, purtroppo in Toscana ci fu l'episodio spiacevole che venne all'ospedale della Versilia, e ci fu un'inchiesta regionale, in cui sembrava che fosse un posto periolosissimo, poi rapportato alla media annuale, il posto dove avevano meno decesso dei bambini. Quindi bisogna stare sempre attenti. Però è importante, e questo sulla questione dei punti nascita, che sia stato applicato il concetto che sotto 500 parti vanno chiusi i punti nascita. In Toscana è stata fatta una guerra a Fivizzano per mantenere l'ospedale aperto, fa 75 parti l'anno. È pericoloso per chi va a partorire lì. Come mai? Perché sotto 500 viene considerato il limite in cui c'è una casistica e gli operatori possono affrontare qualsiasi posizio, qualsiasi cosa. Questo è fatto al di là della bravura degli operatori, saranno bravissimi a tutte le parti. Però viene considerato il limite di sicurezza per poter fare un punto nascita. Anche perché poi il punto nascita prevede anche un'altra cosa, prevede una sala operatoria sempre pronta. Certo. Perché non è solamente... Le eventuali operazioni. Ecco, perfetto. Non è come pronto soccorso, pronto soccorso, non è più il pronto soccorso. Ma bisogna avere la sala operatoria. Cioè, quindi ha... È tutto un sistema, diciamo, più complesso. È un sistema complesso che dire il parto normale, chiaramente. Allora si poteva fare anche in casa. In Olanda hanno provato a farlo in casa e poi hanno smesso. Perché? Perché lo facevano in casa, però dovevano un'ambulanza sotto, aspettare se c'è un'opplicazione... Per portare l'ospedale. Per mettere subito. Aveva poco senso. Senta, prima della trasmissione parlavamo così, accennavamo alla Brexit, questa è giusta una domanda, così a un passato. Perché lei mi diceva che, insomma, come di medici italiani ce ne sono tanti in Inghilterra, in Gran Bretagna. Sono preoccupati oggi? Sì, sono ragionamente preoccupati, anche perché in definitiva in Inghilterra ancora il problema non l'hanno affrontato. Per ora c'è stata questa ondata pro-Brexit contro la Brexit, però nessuno sa in realtà come andrà a finire. Che cosa succederà poi nella pratica? Perfetto, ma in realtà sembra di vedere che anche il governo inglese non è che abbia furia poi di arrivare a concludere tutte le operazioni che arrivano a Brexit. Quindi c'è un problema. Senta, volevo chiedere una cosa, perché spesso noi qui abbiamo parlato, è vero che spesso in termini di politica, però ne abbiamo parlato anche in termini di scuola, di una sorta di rifiuto che si sta, che serpeggia un po' in Italia, ma direi un po' in tutto il mondo, che spesso viene chiamato per la politica del rifiuto, la lotta all'establishment, però in realtà esiste anche negli insegnanti, abbiamo visto i casi di chi non vuole fare i compiti a scuola, ai bambini, perché dice no, i bambini devono giocare, così c'è il rifiuto della politica, così c'è anche in parte il rifiuto del medico come autorità unica, in questo caso dei vaccini può essere inserito in una logica in cui gli abitanti in qualche modo non si fidano più con un tempo del problema. Sì, diciamo che c'è un'evoluzione naturale in tutte le cose, noi siamo passati da un sistema tipo paternalistico o delle cure in cui a un certo punto il medico diceva è così e nessuno lo metteva in dubbio quello che aveva detto, giusto e sbagliato che fosse, molte volte poteva essere sbagliato, sono passati a un discorso più, ed è più giusto, di condivisione delle cure, cioè il cittadino va informato della cura che deve fare e può decidere insieme al medico cosa fare, la legge sulla privacy, io posso prescrivere degli esami a un mio paziente e lui si può rifiutare di farmeli vedere, poi logicamente deve cambiare il medico perché gli ho chiesto degli esami, lui li fa, però diciamo il cittadino è tutelato in questo senso, però ci sono una condivisione delle cure, ciò se ne parla insieme, un concetto importante, nessun cittadino può essere sottoposto a cure segrete, cioè tanti pazienti dicono sono andato ma hanno fatto una puntura di calma, di che cosa? non può essere sottoposto a nessun farmaco che non sia registrato in Italia, non può prendere nessun farmaco che non abbia quelle indicazioni, questo è molto importante. È molto importante perché spesso la gente rischia di affidarsi a volte, no? Anche a cose che esulano, diciamo, da queste norme. No, bisogna stare attenti, le norme ci sono, tendono sempre a tutelare il cittadino, l'ordine dei medici, molti non lo sanno, è istituito a garanzia dei cittadini, non dei medici. Chiarissimo. Senta, una domanda, anche sempre riferita a questo in particolare, è una curiosità, perché sta uscendo e si sta sviluppando un'applicazione per gli smartphone sostanzialmente in cui consente agli utenti, cioè ai cittadini, di dare un voto da 0 a 5 stelle al medico, e anche di lasciare un commento, un po' come succede con TripAdvisor, con i ristoranti, così, ma non rischia in qualche modo di svilire un po' la situazione, anche perché non necessariamente il medico, cioè io mi immagino un medico magari anche molto bravo e però magari non ha molto modo di fare con i pazienti che non risponde benissimo, che possa ricevere una dotazione negativa. In Toscana c'è un detto, c'è un'espressione, il medico più servigiale, e questo è un rischio, cioè il medico che fa tutto che lui dice il paziente, ma anche contro la sua volontà per non perderlo, è il medico servigiale che può darsi e prende a 5 stelle, ma non fa l'interesse del paziente, a parte i rapporti con il servizio, ma non fa il suo. Poi, questi si stanno a punteggio, ho visto anche ieri sera sul report, sulla guida Michelin, quindi quello mi sembra ha messo una parola quasi fine sul discorso dell'affidabilità di queste edizioni che danno devoti a Pfizer, anche loro. Loro stessi stanno avendo diverse versioni. in fondo sono i pazienti che hanno una buona opinione del loro medico, i medici famiglia sono quelli che hanno l'89% di gradimento da parte dei cittadini, quindi questo ci basta più delle 5 stesse. Perfetto. Senta, una domanda, sempre sulla figura del medico, volevo chiedere una cosa, perché in Toscana in modo particolare, ma in tutta Italia si fa anche molto affidamento, soprattutto per quanto riguarda le emergenze sul volontariato, quanto, come dire, quali sono gli equilibri tra ciò che è volontariato e ciò che è invece il professionismo e soprattutto se si mescono bene oggi o se avrebbe bisogno secondo lei questo sistema di essere in qualche modo rivisto o migliorato? No, fortunatamente in Toscana il volontariato è inquadrato all'interno del servizio sanitario regionale, cioè nel senso c'è una collaborazione sui 118, ci sono i volontari della misericordia e c'è il medico del 118, quindi questo qui in altre regioni possono essere delle questioni particolari. Il 118 poi oltretutto ormai è diventata un'attività ospedaliera quindi sta piano piano andando verso la direzione, però in Toscana problemi sull'emergenza non ce ne sono di rapporti con i volontariati. Senta, una domanda invece su per quanto riguarda il settore universitario, visto insomma quando si parla dell'università, parlavamo prima dell'azienda sanitaria universitaria, l'università è rimasta fuori, le aziende ospedaliere universitarie, cioè Pisa, Siena, Firenze, Careggi e Mayer, perché Mayer è un'azienda a parte, pur essendo universitaria, pur essendo a Careggi, insomma comunque fa azienda a parte, sono rimaste fuori da questo raggruppamento, però sono stati attivati di un istituto che sono delle commissioni interaziendali che dovrebbero diciamo servire da compensazione da poter omogenizzare gli interventi sia nella parte universitaria ospedaliera sia nella parte territoriale in senso stretto, quindi con un migliore utilizzo dei servizi a disposizione e quant'altro. Senta, siamo quasi in chiusura, volevo fare due domande rapidissime, faccio prima quella insomma forse un pochino più pessimistica così poi magari chiudiamo in bellezza, uno dei problemi molto diffusi in questo periodo si dice la malattia del nuovo secolo sia l'ansia e la depressione è effettivamente così? Ma diciamo che gli indiani d'America avevano lo sciamano che aveva una funzione non di dare le medicine ma di curare molto quello che erano i mali dell'animo e dello spirito. Sicuramente questa è una cosa che è la situazione diciamo ambientale non è migliorata in questi ultimi tempi quindi sicuramente abbiamo maggiore propensione a dare l'importanza lì veramente l'industria farmaceutica ha giocato male ha giocato sporco illudendo la gente che con la pasticca si possa risolvere i problemi mentre invece molte volte molte volte più delle volte è con il colloquio il dialogo diciamo che prima i priori riuscivano a fare questo compito ottimizzavano meglio della pasticca e allora insomma quindi magari qualche parola a volte due parole magari una bella girata a dare fresca poi in qualche modo aiutare sicuramente più delle pasticche sicuramente più delle pasticche grazie mille a Maurucci per essere stato con noi per aver disposto alle nostre domande grazie grazie a voi per averci seguito da casa Telegram termina qui ci vediamo però domani una buona serata a tutti la ringrazio bene grazie a tutti